pensa che è considerata uno dei volti più riconoscibili nel mondo dell'arte, anche se non rispecchia per niente gli standard di bellezza a cui siamo abituati. Sto parlando naturalmente di Frida Kahlo, e se solitamente io considero le vite delle persone come delle opere vere e proprie, possiamo considerare la vita di Frida Kahlo proprio come un'opera di coraggio. La più coraggiosa pioniera del movimento femminista di oggi, che pretende non solo autonomia e uguaglianza, ma anche un annullamento dei canoni estetici, proprio perché una persona possa sentirsi libera e tale di essere chiamata con questo nome. Costretta a lottare tutta la vita con sofferenze fisiche ed emotive, causate prima di tutto da una grave malattia e poi da un devastante incidente stradale, usa e abusa la sua immagine storpia e sgraziata. Diventa così l'icona surrealista del simbolismo del XX secolo. Ovviamente, vediamo come ha fatto. 6 luglio del 1907. Frida Kahlo nasce a città del Messico. Abbiamo una curiosità. Frida amava affermare di essere nata nel 1910, ovvero l'anno in cui scoppiò la rivoluzione messicana. Proprio si sentiva una figlia del cambiamento e voleva identificarsi con l'inizio di un nuovo Messico. È l'ultima di quattro sorelle. Il padre, Guillermo, un tedesco messicano, è un uomo di cultura, con un grande interesse per l'arte e di professione fotografo. Frida lo ammira molto e spesso lavora con lui nel suo studio fotografico. Questo determina la sua vocazione artistica e influenza fortemente la sua produzione. La madre, invece, è Matilde Calderón y González, messicana di origini indigene e spagnole. Frida ha un rapporto che sarà altalenante con lei, a tratti protettiva e a tratti critica. Interrompo per farti una domanda. Ti piacerebbe diventare un digital marketer e social media manager? Oggi puoi farlo con l'Accademia Kama. In soli sei mesi e senza obbligo di presenza, puoi diventare un professionista di questo mestiere. Vai a guardare il link in descrizione per avere maggiori informazioni. Nel 1913, all'età di sei anni, Frida Kahlo si ammala di poliomelite, che le lascia in eredità una gamba più corta dell'altra e la costringe a una serie di interventi chirurgici molto importanti. Inizia così il rapporto di lotta e identificazione con il dolore fisico. All'età di 18 anni, ovvero il 17 settembre del 1925, avviene quello che è l'incidente dell'autobus. Inizia così per Frida Kahlo un calvario fisico ed emotivo, che comporterà il fatto che nulla sarà più come prima. Quindi dopo la poliomelite, l'incidente dell'autobus influenzerà tutta la sua esistenza, ovvero segnerà l'avvio di una produzione artistica e ne influenzerà quello che sarà lo stile e il significato. Praticamente Frida era seduta in questo autobus e stava tornando a casa da scuola. L'autobus si è scontrato con un tram. Frida ha riportato quindi lesioni e fratture ovunque. alla colonna vertebrale, alla clavicola, alle costole e alla pelvi. Pensa che un tubo di ferro la trafitta da parte a parte, danneggiando per sempre il suo utero. Come conseguenza subisce numerose operazioni chirurgiche ed è obbligata infine a stare lungo tempo a letto. Sarà poi sua mamma a prendersi cura di lei. Quindi all'età di 19 anni, nel 1926, Frida inizia a dipingere proprio per questo lungo periodo di convalescenza. Possiamo chiamarla una terapia espressivo-emotiva. I temi saranno l'identità, le ferite fisiche, la sofferenza, l'amore e la sua terra. All'età di 21 anni Frida si sposa con un pittore surrealista, ovvero Diego Rivera. Continua la sua carriera, ma purtroppo all'età di 25 anni, nel 1932, Frida subisce un aborto spontaneo. E subito dopo dipinge Harry Ford Hospital. Il dipinto è nuda su un letto d'ospedale, circondata da oggetti simbolici e dettagli significativi. Il suo corpo è aperto, in modo da rivelare una serie di simboli e immagini che rappresentano la sua sofferenza fisica ed emotiva. Al centro dell'opera c'è un feto che simboleggia la sua esperienza di aborto spontaneo. Sono presenti anche un utero spezzato e una colonna vertebrale spezzata, a indicare proprio le lesioni subite da Frida nell'incidente stradale dell'autobus. Possiamo quindi definire che questo dipinto sia una espressione intensa e molto sincera dell'esperienza personale di Frida con il dolore e la sofferenza fisica, ma anche ovviamente delle difficoltà emotive che ha dovuto affrontare di conseguenza. Rappresenta anche però una riflessione su quello che è il ruolo delle donne e delle madri, ovviamente, nella società, nonché una critica a quelle condizioni mediche che erano presenti all'epoca e alla mancanza di controllo, ovviamente, sul proprio corpo. Siamo nel 1937. Leon Trotsky, politico e rivoluzionario russo, e sua moglie Natalia Sedova ottengono asilo politico in Messico e sono ospitati nella casa di Frida e Diego, nota come Casa Azul. In questo periodo Frida inizia una breve ma significativa relazione con Trotsky, non solo affettiva, ma anche intellettuale e personale. Condividono degli ideali politici di sinistra e la passione per l'arte, ovviamente. Frida ammira molto il modo in cui Trotsky compie la sua lotta per la rivoluzione proletaria e sarà proprio questo a unirli moltissimo. È il 1938, Frida ha 31 anni e a New York avviene la sua prima mostra personale che riceve recensioni molto positive dalla critica. È organizzata da Julian Levy, un influente gallerista e sostenitore dell'arte surrealista che è affascinato dal lavoro di Frida Kahlo. Sebbene questa mostra non abbia poi un grande successo commerciale, presenta Frida al pubblico americano e la introduce così nel panorama artistico internazionale. Nello stesso anno conobbe André Breton, uno dei fondatori del movimento surrealista. Questo incontro fu molto importante per Frida perché Breton riconobbe proprio il valore del suo lavoro e la incoraggiò a esplorare ulteriormente il surrealismo, ma contribuì anche a far conoscere l'arte di Frida in Europa e a farla ovviamente apprezzare all'interno del movimento surrealista. Questa connessione tra i due era basata appunto sulla comune adesione dell'estetica surrealista che mirava sia a esplorare l'inconscio, ma anche il mondo dei sogni e le profondità dell'immaginazione. È giusto dire però che Frida si distanziò poi dal surrealismo ufficiale, preferiva definirsi una pittorica, rifiutando l'etichetta. Siamo al 1939, Frida e Diego Rivera divorziano. È l'anno in cui Frida dipinge le due Frida, l'opera più celebre dell'artista, considerata proprio una rappresentazione simbolica delle ferite e della sofferenza interiore. Nel dipinto si vedono due figure di Frida sedute su una panchina, una di fronte all'altra. Una delle Frida indossa un abito bianco tradizionale messicano, rappresentando la Frida che Diego Rivera amava. Appare con una vena arteriosa aperta e connette il suo cuore a un'immagine di Diego. La seconda Frida invece indossa un abito europeo e più moderno e tiene in mano un paio di cesoie che tagliano il vaso sanguigno che la collega al cuore. Questa seconda Frida rappresenta la Frida rifiutata e ferita emotivamente. Anche questo dipinto esprime il dolore emotivo di Frida e la sua lotta con amore e identità. Rappresenta una sorta di autoritratto metaforico in cui le due figure rappresentano diversi aspetti della sua personalità, ovvero divisi tra l'amore per Diego Rivera e la sofferenza causata dal loro divorzio. L'opera Le due Frida è diventata così un'icona dell'arte e continua a essere ammirata e studiata proprio per la sua potenza emotiva e il suo messaggio simbolico. Nel 1940 Trotsky viene assassinato da un agente stalinista. La relazione con Trotsky ha influenzato ovviamente lo stile di Frida Kahlo. Sempre nel 1940 Frida si risposa nuovamente con Rivera per la seconda volta. Da lui prende lo stile naif che la porta a dipingere piccoli autoritratti ispirati all'arte popolare. La sua intenzione è ancora una volta di affermare la propria identità messicana. Ed è anche il periodo in cui Frida si distanzia dal surrealismo ufficiale. Lei cercava un'identità personale, come abbiamo detto si considerava pittorica piuttosto che una surrealista. Frida Kahlo cercava di utilizzare l'arte proprio come forma di espressione personale, come veicolo per affrontare temi politici e temi sociali. I suoi dipinti sono proprio ritratti delle sue esperienze personali di dolore, dolore fisico, dolore emotivo, del rapporto con Diego, delle lotte politiche come femminista. È proprio questo focus che rende le sue opere distinte dal surrealismo più astratto e più inconscio. Siamo nel 1953. Frida ha 46 anni ed è sempre più sofferente. La sua salute è sempre più precaria. Ma comunque continua a dipingere, continua a sperimentare, ad esplorare ed esplorarsi. Ed è proprio in questo anno che si tiene la sua prima mostra personale in Messico. Mostra che ne sancisce il successo enorme come artista indipendente, e non all'ombra del marito o di altri artisti. D'ora in poi Frida esporrà sia in Messico che all'estero, guadagnando sempre più ammirazione e più riconoscimento per il suo contributo all'arte moderna. Ad agosto dello stesso 1953, a causa di un'infezione, le fu amputata la gamba destra. Il 12 luglio 1954, all'età di 47 anni, completa il dipinto Viva la Vida. Il dipinto è considerato uno dei suoi omaggi alla vita e rimane una delle sue opere più celebri. Il giorno dopo, il 13 luglio del 1954, purtroppo Frida Kahlo muore a Città del Messico. Frida Kahlo è stata un'artista messicana di grandissimo talento. E nonostante la malattia, l'incidente che hanno causato gravissime lesioni personali a questa ragazza, un dolore cronico e una disabilità, ha saputo comunque reagire con testardaggine, autonomia e determinazione, ispirando così i movimenti femministi moderni. Ha sfidato convenzioni artistiche mostrando ferite e cicatrici, ha abbattuto convenzioni parlando di aborto e di sessualità, e ha sfidato l'egemonia maschile all'epoca predominante. È la cosa straordinaria che ha fatto tutto questo attraverso l'arte ed attraverso il suo coraggio. E sebbene sia morta precocemente, Frida Kahlo è diventata una delle artiste più influenti del XX secolo. Frida Kahlo, una vita, un'opera di coraggio, una figura iconica nell'arte e simbolo di forza e lotta per l'uguaglianza di genere e dell'identità messicana. Se questo video ti è piaciuto, metti like, iscriviti al canale e ovviamente lascia un commento. Alla prossima!